Fottendomi staffami! Fottendomi! Fottendomi! Morto! Ma la tua fuggita ti è data? Si data con la se stava andando a culo! Oh il re è morto! Ragazzi! Il re è morto! E vada là qua! Piccolino è! Questo è il poente, andiamo a guardare adesso! Bravo amore mio! Bravo! Non si ha fatto niente i cani! Guardi Gabbiele! Il re è morto! Da parte anche a voi ragazzi! Non vi preoccupate! Meromai siamo continuati! Questo è il vecchio tempio! Questo è il vecchio tempio! Abbiamo fatto un operario! Oh! Arriva il vero! Dai l'ha fatta! Se no quel ponte non l'ha fatta Antonio Meo! L'ho uscito assieme a lui! L'ho uscito! Dobbiamo fare le cose il battesino del sangue! Non fammi agitare troppo dai! Oh ragazzi! Number one! Ok! Ce l'hai andata! L'abbiamo ritrovata! Adesso tu mi racconti cosa è successo! Dimmi cosa è successo! Antonio l'ho battezzato perché era una zia! No invece l'ho uscito lì! E' tagliacciando la barra! Cazzo mi si gira e mi sta venendo addosso! Bravo bravo! Cazzo facciamo solo due cartucce! Ragazzi! 80 kg di verro! Ora scaggiamo! Suu ok! No invece! Buon plus! N måía!